Non sarà solo di concussione che dovrà rispondere Nicoletta Albano, ex sindaco di Gavi in provincia di Alessandria, ma anche di Peculato. Quegli oltre 33 mila euro di rimborsi non dovuti spuntati fuori dalla documentazione sequestrata l'altro giorno dei carabinieri di Novi Ligure, hanno portato nuovamente il personaggio politico al centro della cronaca e se la procura sarà in grado di dimostrare di aver ragione, allora per la 54enne ci saranno guai ben più seri della paura di non venire a rieletta capo del paese, al quale mira nuovamente nonostante le indagini che la vedano coinvolta. I fascicoli dalla procura di Alessandria alla guida di Enrico Ceri parlerebbero infatti chiari con una sequela di spese non autorizzate messe in conto al comune negli anni dal 2016 al 2019. Si parla di conti di ristoranti, di viaggi, uno anche in Russia e anche dell'acquisto di una scopa elettrica, di zanzariere e di un drone, tutte per lei, secondo gli inquirenti e di certo non per esigenze della collettività. Un'accusa pesante che la tocca come individuo pubblico, così come quella di Peculato che le pende addosso per avere, secondo l'accusa, ricattato il sindaco in carica sino al dicembre scorso, quella Rita Semino, che lei stessa aveva voluto appoggiare e pare solo per farle fare da marionetta. Era stata la stessa Semino a portare ai carabinieri una registrazione dove pare che l'Albano le riferisse senza mezzi termini di dimettersi da primo cittadino se non voleva essere la protagonista del licenziamento di una sua parente. Per quell'accusa nei guai sono finiti anche l'ex capo dell'ufficio tecnico Pierpaolo Bagnasco, l'ex consigliere di maggioranza Eugenio Rabbia e l'ex segretaria comunale Giovanna Sutera, tutti imputati di concussione di altri reati. Stinge così di toni agro amare il profilo di Nicoletta Albano, una vita spesa ai vertici del suo paese. Se si toglie una parentesi in regione, sempre in prima linea, anche quando non era lei a guidare la sua Gavi, ma i suoi fedeli proseliti. Una personalità forte, decisa a potenziare sempre di più il suo establishment, amata e odiata dai suoi compaesani che ne disegnano ritratti a diri poco discordanti. Una storia ancora tutta da scrivere, con le elezioni che bussano alla porta e con la zarina, come la chiamano in molti, pronta a sfidare l'altro candidato Carlo Massa, di professione medico. La lista è sempre la stessa, Gavi nel cuore, un amore che dovrà dimostrare nelle aule di giustizia.